buongiornazzo guerrieri oggi domenica 9 settembre dopo la vacanza da raduni estivi il vostro jack il toscanaccio maledetto è in trasferta con i pandisti del biellese a varallo city per un mega raduno panda guardate che vista dal sacro monte di varallo era ad uno dei pandisti del biellese in trasferta a varallo a bienizio a varallo la mania della panda è già scoppiata i bar non vendono cappuccini ma vendono panda e sono arrivati a raduno in trasferta anche i mitici diritti allo sbaraglio la prima serie è scartilla arrivano guerrieri ora andiamo a conoscere gli organizzatori michela mi conosci ma qual è la macchina più bella del raduno? è quella di jack varallo una cornice stupenda per un raduno da favola arrivati a raduno specialità di varallo è sempre l'ora di mangiare adesso dobbiamo prendere i piedi dobbiamo andare lì sopra sulla terrazza quindi fare circa 40 gradini perché dobbiamo fare la foto panoramica con tutte le macchine dietro l'ultimo che arriva scatta la foto via zona a traffico limitato Nello splendido scenario delle Alpi di Varallo, il raduno di fine estate bialese e adesso destinazione Fobello Fobello, stiamo arrivando Ed ora la benedizione, sindaco, prete Un po' di love e una conversazione, ma non dimenticare di pregare Sto making it strong, where you belong And we're living in the love of a common people Smiles from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love it just as much as she can And she can Yes, we're living in the love of a common people E anche la lotteria, pronta Ragazzi, Jack se ne va, hip hip, hurra Hip hip, hurra